Riuscirà a interagire a creare delle dinamiche, io non credo che possa mai essere un grande fratello noioso. Noioso? No, difficile. Quali scoliettivo definisce un programma trash? Eh, ma dipende da che significa trash. E allora sono, dal 2000 sono 18 anni che esiste nel mondo un programma trash che continua ad andare in onda e quindi vuol dire che anche tutto il pubblico è superseguito. Senti perché tornare quasi 15 anni dopo è un più buono, un rinuncita, un traguardo? No, rinuncita no. Sono talmente fortunato, ho due programmi che sono di grande successo quindi non ho bisogno di rinuncite, non ho bisogno di riconferme. Mi piacciono le sfide, sono stata molto corteggiata dalla mia azienda per mesi, mesi, mesi e alla fine sai quando poi sei un po' femmina che arrivi alla mia età, quindi a 28 anni, questi uomini tutti ti dicono dai, ti prego, dai, ti prego, dai, ti prego, alla fine a 28 anni dici vabbè dai, vabbè come lo faccio? Una sola domanda.